Buongiorno a tutti, grazie a tutti, buongiorno a tutti, sono il Package, siamo abbandonati con il continuo della storia su Call of Duty WW2 Oggi siamo per continuare la missione dopo la Roccaforza Dopo che abbiamo conquistato Marigny, abbiamo salvato Aiello e Fuseman Oggi ci spostiamo in... Per un mese è intero sulla via per Parigi Abbiamo stretto la morsa intorno agli ultimi crocchi in fuga Ma come seppi in trappola Da quelli devi aspettarti di tutto Capirete questa missione, trompo, ora Aspettate Ecco, sono le vostre speciali inglesi, l'SOE Per forza, devi seguire L'esistenza ci ha appena informato di un treno tedesco che trasporta dei razzi F2 per un attacco a Marigny Il sosto è vicino ad Argento Questo c'è da abbastanza tempo per portare la squadra in posizione Dobbiamo fermarlo lì Avete dimostrato il vostro valore a Marigny E ne avrete voi questo video Grazie signora, ma questo non sembra un lavoro per un solo problema Infatti farete squadra con l'SOE Questi sono l'SOE Però, vi siete dati da fare Tranquillo, tenente Ce n'è per tutte L'agente Vivian e Crowley condurranno l'operazione Lavorano con una resistenza da mesi Se moscono il terreno Vedirete allora Abbiamo saputo di Marigny È notevole Non è solo merito mio Normale amministrazione Un gran lavoro Ma il difficile viene ora Non è un comune tra i miei rifornimenti tedeschi È una fortezza sulla TAI Il nostro contatto con la resistenza Il suo Troverà a supportarci Ma gli attacchi alla nostra rete potrebbero lasciarci isolati Il destino di Parigi è nelle vostre mani Ragazzi, avete capito Siamo nel destino di Parigi Quindi dobbiamo distruggere Quel corazzato tedesco, ragazzi Mi ricorda il nostro lancio sopra del coro L'agguato contro la Gestapo Come sei romantica Eccoci I crucchi sono tipi precisi Il treno è puntuale È un treno così grande È così corazzato È un Panzerzug Quei V2 hanno un raggio di 300 km Possono arrivare a Parigi Non devono arrivare al sito di lancio Ovviamente i nemici davanti Bene Io e Vivian li facciamo sfumare Tarno da quel punto avanza Daniels Dopo la tua impresa a Marigny Fornirai fuoco di supporto insieme a Ziostrum Bene, andiamo State tutti giudizioni Capazzo incendi Comunque ci siamo così Il silenzatore Daniels, uccidiamolo ok andiamo qui lì ci penso io ragazzi porco ragazzi sta missione è veramente furtiva ma tanto no non ci sono delle persone cruchi maledetti non ci sono che mi hanno visto un ragazzo è una vata forte c'è lì non so se la vedo qua vabbè ragazzi che sta l'escaldamento questa volta si fa ma serio andiamo ok in questo momento ci spostiamo di qua uccidendo questo qua ragazzi andiamo un fucile d'assalta me lo possiamo sparare anche da lontano allora sono veramente tanti in teoria loro ora vanno dentro noi ne approfitteremo per avanzare ovviamente bassi andiamo allora con l'ufficiale mi fa parecchia paura che cazzo ma faccio avanzare e ora lo eliminiamo ti 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 ce n'am curioso gamata Vatti fuori Merda Non ci credo Dobbiamo raggiungere il treno Andiamo Qua il culo a sto crano Eh vabbè c'è pure la granata Cambio di programma C'è un peccato Aspettate devo salvarlo Ci sono Ci sono Via 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 Non ci credo Dai madonna Dove stai? Dai Pronto Merda Avanti a noi Fuoco Ce la farai Ti salverò io Ti salvo Siamo ancora in tempo Avanti Più che il treno No Ok ci penso io Dai via 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 Fatto Dobbiamo partire Andiamo 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 Oh cazzo Oh cazzo Dove andare Tadà Dico ancora io? GG Andiamo andiamo Ti veniti forte Cazzo attento Non uscire di strada Attento agli altri Cazzo ho preso Una barra scorciato Io Vero ragazzi? Lo vedi? Eccolo Accelera Oh porca Puttana Così lo perdiamo Ci provo Sotto al ponte Sotto al ponte Sotto al ponte Diricione Diricione Oh cazzo Via Porca La puttana Oh porca Sotto al ponte Attenzione Attenzione Sotto al ponte Non sei d'aiuto Come vivo su Grazie Si spara poi No Vieni la terra Lanciano granate Oh Che curo Ma va che dovremmo Oh cazzo Guardate Guardate Portaci via Portaci via Da qui Grande Sotto al ponte Oh porca Puttana Granata Ci penso io Oh porca La puttana Che male Noi Si Madonna Madonna E la Madonna E Madonna Che caga Sì Sì È una Madonna Che Adesso qua A terra Mi ha arrivato Un mezzo Robo addosso Un infarto Ma sarei pure preso Porca puttana Porca puttana È successo davvero Ce l'abbiamo fatta Finirà nei libri di storia Stiles avrà fatto qualche foto Pearson potrebbe anche lasciarci in parte Acchia Chi è che l'ha ucciso Ah Ecco lei Scusa Che cazzo Sosa Un amico Ecco ragazzi Lei è russo Poi vi spiegherà Perché Lei in teoria Hai capito Niente Ti hai lasciato stare Lo scoprietevi avanti Qui qui Subito No Uh Ok ragazzi Dai dai Andiamo Ma io Stare attento In tutti quelli Che sono a terra Oh cazzo Aia Lancia una granata Ok Dai ci siamo Uso una granata Quanti Quanti nemici sono Sto facendo fuori 25 25 Ecco qui Eccoci Sì Vedo che siano Dei Ha ucciso Un trucco Che ci puntava Ogni tanto Sarebbe utile Intendere Sarebbe solo Una perdita Di tempo Andavamo Per persi Avete fatto Un po' Di danni Quel treno Andava Certo Un fermato Non ti stai Sì Mi dispiace Che le cose Ci siano sfuggite Di male Il dato positivo È che abbiamo Allertato tutti Gli composti Nemici Dell'area Faremo meglio A darci una mossa Forza Non so bene Come Ma io e Zius Siamo soppabissuti Allo schianto Del treno E abbiamo Incontrato Una tosta Fa parte Della resistenza Ed è riuscita A convincerci A fuggare Fra i rottami Del treno In cerca E servivano Per una missione E aveva Un lavoro Gigi Restringendo il treno Abbiamo scongiurato Un attacco Contro Parigi Ora la resistenza Userà i documenti Recuperati Per infiltrarsi In una guarnigione Nazistra Cegna Quindi ragazzi Avete capito Loro attaccheranno La base nazista La base nazista Che si trova A Parigi Ragazzi Io dire Che questo episodio Può essere Veramente tutto Spero vi sia piaciuto Lasciati like Comenzi e ci vedrai Non posso vedere Bala raga